Sono appena arrivate 86 lettere e provvedimenti di esclusione, laddove hanno persino pubblicato per ognuno il nostro importo del modello ISEE. E da come si può evincere ci sono persone che sforano di 800 euro, di 500 euro, anche di 1000 euro. Riteniamo che proprio noi non siamo i ricchi, i PIP, quelli ricchi, privilegiati e benestanti. Ci troviamo in delle situazioni di una persona che esce per 500-600 euro in quanto si trova in un nucleo familiare che vive col genitore o con la nonna o con la zia. Proprio anche in una situazione di una famiglia allargata, laddove le persone proprio si uniscono, si riuniscono, comunque per sostenere meno dei cost. Quindi in questo caso sono stati depennati perché sforano, facendo un nucleo familiare, sforano la soglia dei 20.000 euro. Noi siamo in mezzo alla strada, c'è gente qua, io ho 36 anni, altri colleghi, che siamo senza un lavoro. Noi purtroppo secondo lavoro non ne facciamo, viviamo solo di questo. E io mi sono accorto una cosa su questa esperienza che ne farò, diciamo tesoro, che l'onestà non paga, mi sono accorto ragazzi. L'onestà non paga. L'ho detto all'onorevole Cancelleri e l'ho ribadito al dolore Valettino. L'onestà non paga purtroppo ragazzi.